Il vostro problema, come il mio, spesso è che la cravatta si stropiccia ed è piena di polvere. La soluzione a questo problema ce l'ha da StiraCandy. Come potete ben vedere, in questo semplice contenitore, noi mettiamo la cravatta in questo modo, prendiamo il contenitore, togliamo il tappo, con un semplice dito inseriamo la cravatta all'interno del contenitore, chiudiamo, facciamo scattare e con questo semplice movimento di dita, semplicissimo, noi abbiamo la nostra cravatta, la nostra picciata, già archiviata per il prossimo video. Tutto questo grazie al semplice, ma non per questo poco utile, stile verde. Tutto questo grazie al semplice.